Un anno fa il sequestro, oggi la confisca per i beni dell'imprenditore Giuseppe Nasso, 41enne di Rosarno, arrestato nell'estate del 2018 nell'ambito dell'operazione Ares. Il provvedimento è scaturito dalla pronuncia della sezione Missure di Prevenzione del Tribunale di Reggio Calabria, che ha ravvisato gli estremi per alienare gran parte del patrimonio nella sua disponibilità, considerandolo, oltre che di provenienza illecita, come messo a disposizione dei clan locali. I beni confiscati per un valore complessivo che supera i 2,5 milioni di euro sono costituiti in particolare da un milione di euro, le cui mazzette sarebbero state a disposizione dei boss dell'Andrangheta, un'impresa individuale, due immobili, un libretto di deposito titoli, una polizza assicurativa. Un ingente patrimonio, quello di Nasso, costituito anche dalla disponibilità di un milione di euro in contanti, soldi considerati dagli investigatori come estremamente importanti per agevolare le iniziative delle cosche di riferimento, soprattutto per quanto concerneva l'acquisto delle partite di cocaina provenienti dai paesi dell'America Latina. Il sequestro è conseguito all'arresto del 41enne, finito in carcere insieme ad una quarantina di persone, ritenute appartenenti a due diverse cosche dell'Andrangheta. Le indagini hanno portato a documentare come l'imprenditore fosse organico ad uno dei clan a favore del quale avrebbe messo a disposizione strutture e capitali importanti in maniera strumentale. L'operazione Ares nel 2018 portò a disarticolare due tra le più temibili articolazioni andranghetiste nella piana di Gioia Tauro. L'operazione Ares nel 2018 portò a disarticolare due tra le più temibili articolazioni andranghetiste nella piana di Gioia Tauro.